Trasparenza e contatto con la popolazione, con i nostri concittadini, per noi è una cosa essenziale. Credo che noi vogliamo fare una politica che tenga conto della nostra realtà, che venga accettata dalla popolazione. Questo è solo possibile se noi abbiamo un contatto, una informazione reciproca, nel senso che noi conosciamo un po' e sentiamo un po' i problemi della popolazione e viceversa i politici possono anche rispondere a queste domande. Proprio per questo motivo noi abbiamo una rete civica e dall'altra parte abbiamo anche la possibilità che i nostri concittadini, seguendo un po' il lavoro della politica della giunta provinciale, possono fare delle domande. E poi tutti gli altri possono sottolineare queste domande, possono condividerle, possono anche rispingerle, possono fare nuove domande. E poi la settimana seguente un membro della giunta provinciale risponderà a questa domanda più votata della settimana precedente. Io sono curioso e sono fiducioso di avere, di aprire così un contatto vivo, vivace tra voi e noi. Grazie. Grazie a tutti.